Andare a Londra con la terza media è possibile? Ti sei detto, non conosco la lingua ma voglio lavorare a Londra? Il sogno di molti ragazzi è proprio quello di raggiungere la capitale britannica per vivere sulle sponde del Tamigi, trovare un lavoro a Londra e cominciare una nuova vita. Tuttavia, è possibile farlo senza avere particolari titoli di studio e con poca esperienza? Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto... Sigla! Innanzitutto va affrontata la questione comprendendo che si tratta di un cambiamento particolarmente drastico e non adatto a tutti. Servono forti motivazioni, un carattere forte ed una spiccata adattabilità. A dispetto di ciò, una volta superata la fase di ambientamento, vivere in Inghilterra non è per niente male. Come possono testimoniare le migliaia di giovani che hanno fatto questa scelta durante gli ultimi anni? Puoi leggere sul blog di Living on the Way le testimonianze di molti ragazzi che abbiamo aiutato nel trasferimento a Londra. Bisogna però essere realistici e comprendere come, prima di fare questo passo, bisogna analizzare attentamente le possibili criticità ad esso collegate. Cerchiamo quindi di fare una prima analisi generale di questa situazione e di come trovare lavoro a Londra. Quando visiti una città come Londra in vacanza, ti può sembrare tutto particolarmente piacevole. Naturalmente però, viverci 12 mesi all'anno è ben diverso. Trovare lavoro a Londra, infatti, potrebbe non essere così semplice. Con i suoi quasi 9 milioni di abitanti, la capitale inglese offre sicuramente molte opportunità. Ma per uno straniero appena arrivato alla ricerca di un'occupazione, potrebbe essere una missione quasi impossibile. Senza punti di riferimento e senza particolari conoscenze, si può finire a lavorare sottopagati e soprattutto in condizioni pessime, in qualche attività magari gestita da italiani. Proprio per questo motivo, parecchi ragazzi poco fortunati o che comunque hanno raggiunto Londra senza adeguati contatti desistono dopo appena qualche mese in una città come Londra a causa di pessime esperienze. Affidandoti a Living on the Way, puoi avere la certezza e la serenità di avere un punto di riferimento chiaro e presente, capace di guidarti e consigliarti durante la fase di ricerca del lavoro. Conosciamo da vicino questa realtà, operando e aiutando un gran numero di italiani che ogni anno varcano la manica per cambiare totalmente la loro vita. Ma torniamo un attimo alla domanda con cui abbiamo cominciato questo discorso. È possibile andare a Londra con la terza media? A questo punto possiamo dire sì, ma solamente con adeguate conoscenze o grazie ai servizi che offriamo a chiunque decida di fare questa scelta così importante. Naturalmente, in questi casi, i titoli di studio e la conoscenza della lingua come spiegheremo tra poco in seguito, sono dei vantaggi notevoli. Se non possiedi questi requisiti però, non è detto che tu non debba assolutamente venire o desistere. Con un po' di capabilità e soprattutto con il nostro aiuto potrai trovare una sistemazione più che dignitosa. E quindi, è possibile andare a Londra con la terza media? Assolutamente sì, ma bisogna aver voglia di fare, essere forti, ma soprattutto accontentarsi. Non è detto che da subito tu troverai il lavoro dei sogni, magari ci vorrò un po', ma sicuramente starai mettendo le fondamenta per cambiare totalmente la tua vita. Non conosco la lingua, ma voglio lavorare a Londra, sì, ma come posso fare? Si può trovare il lavoro a Londra anche senza sapere l'inglese o con poca esperienza? Se non ti spaventa il cambiamento e accetti questa grande sfida, devi poi fare i conti con la lingua inglese. Tieni presente, infatti, che ciò che studi a scuola o che parli quando sei in vacanza potrebbe non bastare. E anzi, potresti aver bisogno di fare un corso intensivo la sera dopo il lavoro. Nonostante ciò, abbiamo già spiegato come abbiamo trovato un impiego a tutte quelle persone che hanno detto non conosco la lingua, ma voglio lavorare a Londra. Ma voglio? Voglio. Puoi trovare un bel approfondimento sul nostro sito di Living London Way. Se non hai una particolare dimestichezza con la lingua, possiamo darti una mano per trovare lavoro e cominciare ad immergerti in questa fantastica città. Anche se non sei particolarmente portato per le lingue, ritrovarti coinvolto in un ambiente lavorativo dove si parla l'inglese sarà di enorme aiuto per assimilare la lingua. Non ti preoccupare quindi anche se hai poca esperienza. Bisognerà pur cominciare da qualche parte. L'importante è non essere arrogante e non avere super aspettative. Con il duro lavoro e il sacrificio si possono ottenere degli ottimi risultati. Lo so che queste ti sembrano parole da motivatore americano, ma credimi, sono passati tanti e tanti ragazzi da noi che ce l'hanno fatta e a cui puoi scrivere anche su Facebook. Se ti sei detto, non conosco la lingua ma voglio lavorare a Londra, non ti preoccupare allora perché basta davvero tanta forza di volontà per farcela e nessuna competenza speciale che non hai in questo momento. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Facci sapere cosa ne pensi e se hai qualche domanda siamo qui per aiutarti. Ci vediamo quindi al prossimo video e ciao! Grazie! Grazie! Grazie!